Una battaglia terribile ed epocale. Migliaia e migliaia di legionari di Roma trucidati dai barbari goti. L'impero più grande e longevo della storia che vacilla. Ma un'aquila perduta vola verso la Britannia, terra di magie e di misteri. Dalla sua anima gloriosa nascerà la spada più amata ed invincibile. L'aquila e la spada. Il romanzo. I vincitori scrivono la storia ma sono gli sconfitti a scrivere la leggenda.